Buongiorno a tutti, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento della Miano Music Week. Oggi affrontiamo un tema molto interessante, ovvero come potete leggere, chi guadagna da un festival rock e viaggiamo e andiamo esattamente in Toscana, dove ci sono tre festival giganteschi, importantissimi, diversi fra loro, ma legati in qualche modo da un filo rosso, che sono il Firenze Rocks, il Luca Summer Festival e il Festival La Prima Estate. Prima di analizzare i dati con i due ospiti, che sono appunto Nicola Salvati e Alessandro Papini, che hanno portato proprio avanti delle ricerche fornendoci delle fotografie nitide, numeriche, i numeri non commentano di quanto questi festival siano importanti, non solamente per il pubblico che coinvolgono, ma per il territorio, per la ricchezza economica e culturale del territorio. Chiamerei un attimo qua sul palco Enrico D'Alessandro, lì D'Alessandro E' Galli e Alessandro Bellucci, coorganizzatore insieme a Live Nation del Firenze Rocks, per analizzare proprio questa case history di cui vi parlavo in apertura. Un applauso. Enrico, Alessandro, prima appunto di iniziare a spulciare i dati e a capire insieme l'importanza di questi festival, come volevo fare un discorso più generale. Questi tre festival di cui io sono anche stato frequentatore in primis e sicuramente anche qualcuno qua del pubblico è venuto a uno di questi festival, perché sono festival davvero di grandissimo valore nazionale e internazionale, hanno proprio la dimensione di festival, ovvero mi spiego, non sono delle rassegne o degli eventi in cui io vengo a fruire sostanzialmente di musica dal vivo e stop, ma regalano anche delle esperienze. Non solo perché sono localizzati in città molto belle, che offrono anche la possibilità di vivere le bellezze turistiche e territoriali, ma proprio perché la dimensione del festival che si è voluta creare è quella di dare qualcosa di più al pubblico della sola musica. È questo il valore e il filo rosso che lega queste tre manifestazioni? Beh, in un certo senso sì. Il filo rosso principale è quello che sia appunto la Toscana e il fatto di offrire allo spettatore un'esperienza che va oltre le due ore di concerto, quindi diciamo un soggiorno, una vacanza, chiamiamola in un luogo che ormai è la terra dei sogni dei turisti di Mezzomondo, insomma diciamo. Oltre a questo sì, da parte nostra soprattutto con la prima estate abbiamo cercato di ispirarci alla dimensione festival, dei grandi festival europei, quindi con più artisti sul palco durante la giornata, ma anche appunto come dicevi di offrire contenuto anche non esclusivamente musicale nel resto della giornata. Alla prima estate oltre a serie di panel come questo legate appunto al mondo dell'industria musicale, ci sono attività legate al mondo dello sport, abbiamo un workshop di surf o di ciclismo o anche al mondo del food. Questo perché appunto crediamo che il concerto di due ore non basti più, il pubblico ha bisogno di un'esperienza più completa. Alessandro, anche il Firenze Rocks, ovviamente dimensioni diverse, però ha quel tipo di rapporto fortissimo col territorio e ovviamente con il capoluogo? Assolutamente sì e l'esperienza è legata al fatto, poi lo diranno anche i numeri, è stata fatta una domanda specifica che dice quanto vale la scelta di essere a Firenze per la tua presenza qui e vedrete che è sufficientemente determinante, ma proprio all'interno dello spazio stesso come ha descritto Enrico si vive un'esperienza. È ovvio che gli artisti hanno la loro grande importanza, però si viene a partecipare a un'esperienza, ad un evento e lo si fa generalmente con gli amici, con le persone con le quali si vive. Sono esperienze che poi nel corso della propria vita rappresentano un bene immateriale che ha un valore molto importante. Noi siamo qui per raccontare dei numeri, abbiamo passato, noi intendo dire gli organizzatori di concerti, abbiamo passato gran parte della nostra esperienza lavorativa a cercare di far capire all'istituzione, alla politica i termini di numeri, che cosa valeva il nostro lavoro e lo vedremo ovviamente. tanto che forse ci siamo dimenticati un po' anche che cosa vale la bellezza delle cose che realizziamo, che è altrettanto se non ancora più importante e anche altri meccanismi di implementazione per il territorio. Faccio un esempio banale. Firenze Rocks, così come il Luca Summer Festival la prima estate, rappresentano delle operazioni che fanno anche una sorta di rebranding del posto dove si svolgono. Io vengo da una città che è Firenze, che può essere sicuramente una bella città, ma ha da di sé un'immagine che certamente non è dinamica, non è giovane. Operazioni come il Firenze Rocks la ridefiniscono in termini più giovani, in termini più dinamici, in termini più europei, esattamente come accade per Luca, che è un'altra città meravigliosa, ma che è nel mondo più o meno considerato un luogo da turisti, da visitare. Operazioni come quella del Luca Summer Festival la ridisegnano e partecipare a un'esperienza di questo genere non solo porta di grandissimi vantaggi al territorio. Ma il territorio stesso costruisce un meccanismo di socialità complessiva che fa bene al territorio. Dov'è che si sta bene, dov'è che ci si diverte, dov'è che condividiamo un'emozione, secondo il mio pensiero, facciamo crescere una comunità migliore e le comunità migliori, tanto per fare un esempio, costano anche di meno in termini economici di comunità che crescono in termini peggiori. Quindi la musica dal vivo, i festival, a mio avviso hanno anche questo di caratteristica che non va mai svincolato dai numeri che poi vedremo ma che sono, non dobbiamo mai dimenticarcelo, sono operazioni culturali di grandissimi numeri, sia Luca Summer Festival, sia la Prima Estate, sia Firenze Rocks coinvolgono in pochi giorni centinaia di migliaia di persone che stanno insieme nella più pacifica delle situazioni ed escono con un'esperienza che poi si porteranno dietro per tutta la vita. Finisco velocemente, io sono un turista musicale, fin da ragazzino sono andato in tutto il mondo a vedere concerti e ancora ora quando incontro i miei vecchi amici gli dico ma ti ricordi quando siamo stati a vedere? Questa è un bene bellissimo, enorme. Nelle tue parole c'è una grande verità ovvero che molto spesso nel nostro paese da parte istituzionale anche da parte politica possiamo dirlo senza problemi c'è un po' il pregiudizio che la musica alla fine, la cultura sia intrattenimento, non abbia delle ricadute economiche in realtà fortissime sul territorio, i dati che poi vedremo sono impressionanti da questo punto di vista e credo che questi studi che adesso poi andremo ad analizzare siano non solo un modo per fare un check ovviamente sul vostro lavoro per capire meglio anche dove migliorare, dove sono stati dei progressi ma anche proprio per mostrare fattivamente a chi magari ha ancora quella mentalità sbagliata, mi viene da dire retrograda, che in realtà ci sono delle ricadute e dei numeri fortissimi che portano a un bene comune della collettività, è questo un po' che vi ha spinto anche alla realizzazione di questi studi? Sì è vero c'è ancora del pregiudizio da parte delle istituzioni a volte, noi veniamo invece da esempi molto positivi perché per quanto ci riguarda entrambi i festival sono nati con una stretta collaborazione con le istituzioni politiche sia a Lucca con Comune e Provincia di Lucca che all'Iru di Camaiore con quello di Camaiore. Ci auguriamo che quello della Toscana possa essere un esempio positivo per tutte le altre regioni d'Italia, abbiamo degli scenari per ospitare festival musicali che dovrebbero consentire all'Italia di dominare il mondo dei festival estivi, quindi ci auguriamo di essere un buon esempio. È bello quello che diceva Alessandro riguardo il rebranding, effettivamente è una situazione che abbiamo affrontato anche noi, anche con l'ultimo esperimento, con la prima estate, venivamo da una narrativa di Versiglia legata molto agli anni 60, quindi come luogo di turismo di lusso, l'abbiamo dovuto reinventare come un luogo di turismo ideale per un pubblico di trentenni. Il risultato, lo vedremo poi dopo dai dati, è che il 54% del pubblico che abbiamo portato non era mai stato in Versiglia, quindi questo è il valore che portiamo effettivamente poi alla location che ospita i festival, oltre a quello economico e poi anche quello vedremo, e oltre a quello di immagine perché comunque sia, veicoliamo il nome della città in tutto il mondo, perché comunque sono festival di rilievo assolutamente internazionale. Velocissimo, un flash, poi lasciamo spazio ovviamente ai dati, domanda puramente dal giornalista, quando ci saranno dei prossimi annunci? Beh, credo nei primissimi giorni, beh, Luca Summer Festival ha già tre nomi sul calendario e mi anticipo che in settimana prossima avremo un annuncio ogni giorno, quindi dal lunedì al venerdì. La prima estate svelerà una prima parte di cartellone nei primissimi giorni di dicembre. Firenze Rocks? Per quanto riguarda Firenze Rocks non posso dare anticipazioni, ma diciamo che nel giro di 10-15 giorni dovrebbero essere annunciati i primi due headliner. Ottimo, io ringrazio tantissimo Enrico D'Alessano e Alessandro Galli e Alessandro Bellucci, coorganizzatore insieme alla Venesco del Firenze Rocks, grazie. Grazie a te. E lascerai spazio a Nicola Salvati, professore di statistica, che ha portato avanti appunto uno studio per il Lucas Summer Festival e la prima estate, se vuole raggiungermi qui sul palco, e ad Alessandro Papini, che è ricercatore del Centro Studi Turistici di Firenze, che invece ha approfondito il Firenze Rocks. Lasciamo parlare i numeri adesso, che sono insomma una fotografia appunto importante per farci capire meglio queste realtà. Partiamo col Firenze Rocks. Sì, buonasera a tutti. Dunque, noi del Centro Studi Turistici di Firenze abbiamo realizzato questo studio, in occasione dell'edizione 2022 di Firenze Rock, un'edizione che si è svolta in quattro giornate, dal 16 al 19 giugno, e ha visto la partecipazione di quattro gruppi rock, diciamo famosi a livello internazionale. Secondo quelli che sono i dati di Ticket One, che ci sono stati forniti da Ticket One, la manifestazione ha visto la partecipazione di circa 195 mila spettatori, di più di quelli dell'edizione precedente del 2019, più o meno in linea con quelli invece della prima edizione che si è avuta nel 2018. Va subito detto che, vista la portata dell'evento, una delle più importanti a livello italiano nel suo genere, Firenze Rock non rappresenta solamente un'occasione di intrattenimento e spettacolo per la città, ma secondo noi è uno strumento proprio per rafforzare quella che è l'immagine di distretto culturale della città, diversificandone quelle che sono le proposte e diversificando anche quelli che sono invece i target di riferimento. quindi è un evento che si integra nel contesto culturale della città d'arte, rivolgendosi a un pubblico diverso e come vedremo portando poi benefici in termini proprio economici ai diversi settori produttivi della città e di tutto il territorio circostante. In questo contesto pertanto si è inserito il nostro studio che ha avuto l'obiettivo da un lato di determinare quelle che sono le caratteristiche e i comportamenti degli spettatori dall'altro proprio di pervenire a una stima del flusso di spesa che il pubblico della manifestazione genera sul territorio di Firenze, di tutta la città metropolitana e di tutta la regione. Si tratta, quello che abbiamo osservato noi, di una parte dei benefici che questo evento poi porta al territorio. Ad esempio non è stato considerato l'impatto derivante dagli investimenti realizzati dagli organizzatori oppure gli impatti mediatici relativi al ritorno di immagine proprio anche per la stessa città. Velocemente, come abbiamo fatto lo studio, le fasi sono state definite in accordo con Promo Firenze, le informazioni sono state raccolte attraverso un'indagine proprio sul campo realizzata durante le quattro giornate, durante i quattro concerti. Ecco, quello che è importante dire è che i dati che abbiamo raccolto ci hanno permesso di pervenire a una segmentazione di quelli che sono gli spettatori, individuando alcune categorie che secondo noi si distinguono sia per aspetti comportamentali sia proprio per un profilo di spesa diverso. Sono i residenti, la cui attività è limitata allo spostamento per raggiungere l'area del concerto e alla partecipazione proprio all'evento, gli escursionisti, quindi spettatori che giungono da più lontano, assistono al concerto e poi se ne ripartono, e spettatori turisti, vale a dire spettatori arrivati che non hanno limitato la loro permanenza alla sola giornata del concerto ma poi hanno effettuato dei pernottamenti sul territorio. E questo, ecco, a partire da questa segmentazione noi abbiamo individuato dei diversi profili di spesa che ci sono poi serviti per stimare quello che è proprio la spesa complessiva che si è riversata sul territorio. Ora, senza soffermarmi, queste sono le quattro giornate con i relativi gruppi. in alcuni casi si tratta di gruppi storici che, diciamo, la cui tappa di Firenze era unica diciamo di un loro tour mondiale. Tra l'altro mi viene da dire, meno male che le band erano finite, perché sono numeri... Sì, ci sono i relativi numeri, ora io non mi sto a soffermare. Insomma, erano preceduti poi da altri gruppi musicali, quindi come dire, una manifestazione poi che ha visto concerti, diciamo, in tutto l'arco della giornata. E questa invece è la ripartizione degli spettatori, dei 195.000 spettatori, in base alla loro provenienza. abbiamo circa un 14% di residenti a Firenze e nell'area metropolitana circa il 3% provenienti dagli altri comuni, dalle altre province della Toscana poi c'è la fetta più grossa, 151.000 spettatori, 77% all'incirca, provenienti dal resto d'Italia mentre gli stranieri hanno rappresentato più o meno il 5-6%, 11.000 spettatori. Vediamo quelle che sono le caratteristiche del pubblico. Ora, senza scendere troppo nei numeri, no? Allora, cosa è emerso? Sono emersi alcuni aspetti molto interessanti. Allora, intanto, secondo noi, quello che è venuto fuori è che Firenze Rock rappresenta una manifestazione strutturata in grado di coinvolgere un pubblico eterogeneo che va dai single alle coppie, ai gruppi, ai gruppi di amici, alle famiglie. E anche come età, noi l'abbiamo stimata così 33 anni in media, però anche come età è molto eterogenea. E abbiamo notato che poi l'età cambiava proprio in base alla proposta musicale del giorno. Quindi alcuni gruppi storici, tipo Metallica, magari avevano un pubblico più maturo, altri invece un pubblico più giovane. È un evento che comunque sia mantiene a un elevato livello di fidelizzazione. Molti spettatori avevano partecipato già alle edizioni precedenti e questo non riguarda solo gli spettatori locali, diciamo, quelli che venivano dalla località più vicina, i fiorentini, ma in generale l'abbiamo notato su tutto il pubblico. Un altro aspetto che è emerso e che è già stato detto è l'importanza poi della location di Firenze. Una location che è capace sia di incidere su quelli che sono i risultati della manifestazione, sia di incidere proprio sui comportamenti di consumo del pubblico. E poi dopo lo vediamo. È il risultato che circa sei spettatori su dieci hanno valutato positivamente, non i residenti, sei spettatori non residenti su dieci, hanno valutato positivamente sia la proposta musicale, sia la suggestione del luogo, della location. L'ultima cosa è che è emersa un'elevata capacità dell'evento di sviluppare proprio un'inedita integrazione tra proposta musicale, territorio e le sue attrazioni culturali. E questo è stato notato soprattutto tra gli stranieri. È stato stimato che circa 17.000 spettatori durante la loro permanenza nella città di Firenze hanno visitato un museo, hanno visitato un monumento, un palazzo storico. L'impatto quindi della città di Firenze, abbiamo detto, anche sui comportamenti, incide anche sui comportamenti del pubblico. Non a caso molti hanno scelto proprio di fermarsi e per nottare e quindi effettuare proprio dei veri e propri soggiorni. Abbiamo stimato circa 86.000 spettatori che hanno trascorso almeno un pernottamento a Firenze e in tutta la Toscana, circa la metà dei non residenti. Quindi insomma una quota molto alta. Ovviamente questa tendenza è più frequente tra coloro che magari giungevano da lontano, quindi spettatori italiani, spettatori stranieri. Ecco, questi spettatori turisti hanno generato sul territorio circa 191.000 pernottamenti, di cui l'83% grossomodo da parte di spettatori italiani, circa 33.000 da parte di stranieri. Quindi gli spettatori stranieri che abbiamo visto comunque rappresentavano una parte un po' piccola del pubblico, circa il 5-6%, però sono importanti, il loro effetto poi si moltiplica perché loro poi si fermano sul territorio, rimangono anche più notti, dormono più notti, e tendenzialmente spendono anche di più rispetto agli italiani. Difatti la permanenza media che noi abbiamo stimato è di circa 2,2 notti, è più bassa per gli italiani, 2,1 notte di media e sale a 3 notti e mezzo invece per quanto riguarda gli stranieri. scelgono pernottare nelle tipologie ricettive più svariate, dagli alberghi, agli affittacamere, ai campeggi, agli ostelli, qualcuno dormiva anche sul prato, in macchina, oppure in appartamenti, in camere in affitto, quindi i benefici riguardano un po' tutto il sistema ricettivo del territorio. E molti anche hanno preferito, abbiamo notato, che circa uno spettatore turista su quattro ha scelto degli alloggi al di fuori della provincia, quindi ha scelto di soluzioni recettive e decentrate. Ora bisogna considerare che nella settimana del Firenze Rock a Firenze si svolge solitamente un'altra importante rassegna che è Pitti Uomo, quindi la città in quel periodo, l'offerta ricettiva è un po' satura e non è il periodo migliore per cercare soluzioni economiche anche per fermarsi a dormire. Tutte queste informazioni ci hanno permesso di arrivare a quella che è proprio la stima di delineare quello che è il comportamento di spesa degli spettatori. Quindi in base a quella che noi avevamo, alla segmentazione che avevamo effettuato all'inizio tra spettatori residenti, escursionisti e turisti, siamo andati a determinare quella che è una spesa media pro capite giornaliera sostenuta dai residenti, dagli escursionisti e invece una spesa media giornaliera per il tutto il soggiorno per quanto riguarda gli spettatori turisti. Sono spese sostenute sul territorio regionale che riguardano lo spostamento, quindi il trasporto per raggiungere Firenze, per raggiungere l'area del concerto, spese in consumi in ristoranti, bar, esercizi commerciali, shopping, oppure anche per gli acquisti vari e gadget del concetto. Non sono comprese le spese relative al biglietto d'ingresso. Abbiamo stimato circa 25 euro, una spesa media del residente di Firenze e dei comuni circostanti, circa 62 euro invece la spesa media dell'escursionista e 327 euro invece la spesa media pro capite sostenuta dagli spettatori turisti per tutto il soggiorno e varia da circa 300 euro per gli italiani agli oltre 575 euro per gli stranieri che noi abbiamo visto poi erano quelli che oltre a spendere tendenzialmente di più si fermavano anche per più notti. Il grosso della spesa degli spettatori turisti è destinato all'alloggio, circa il 45%, il 28% alla ristorazione. Scusi, arriviamo alle conclusioni perché poi abbiamo anche... Sì, velocemente sulla base di questi dati abbiamo stimato quella che è la spesa complessiva che si riversa sul territorio e ci ha portato a stimare circa 33 milioni di euro complessiva di cui l'86% originata dagli spettatori turisti. nella tabella c'è la spesa suddivisa per le diverse voci dalla ricettività alla ristorazione al commercio, eccetera. Il 39% della spesa è riservata sul sistema della ricettività, il 30% nelle attività ristorative della somministrazione, l'8% nei trasporti. Vi concludo con la ripartizione di questi 32 milioni sul territorio. Il grosso è stato intercettato dalla città di Firenze, circa il 79%, circa il 3% dagli altri comuni della provincia, della città metropolitana, il 12,5% dal resto della Toscana. Grazie. Grazie a lei. Sì, questa slide la terrai ancora un attimo perché sono numeri davvero importanti che fanno capire proprio quello che diciamo in apertura, ovvero la ricaduta positiva sul territorio e iniziano a rispondere in modo concreto alla domanda di questo panel. Chi guadagna dai Festival AROC? Sicuramente chi lavora, sicuramente chi investe e chi è necessario, ovviamente, che abbia un ritorno economico, ma poi ci sono anche dei riflessi di collettività e di economia davvero impressionanti e questi numeri lo testimoniano. Adesso viaggiamo verso altri due festival e lo facciamo appunto con il professor Salvati che ci porta all'interno della prima estate del Lucas Summer Festival. Sì, grazie. Allora, innanzitutto, noi, è la prima volta che ci vediamo, però il metodo che abbiamo utilizzato per fare queste ricerche sono molto simili. Due cose di metodo. Allora, la prima è che le stime che vedremo sono senz'altro stime per difetto, perché, come diceva anche prima, non abbiamo considerato alcune spese che non siamo sicuri che ricadano sul territorio e quindi sono stime senz'altro per difetto. Per quanto riguarda come abbiamo fatto l'indagine noi avevamo degli intervistatori che sono andati all'interno del concerto e le abbiamo detto intervista uno spettatore ogni dieci. Quindi loro andavano, per esempio, su una linea retta e intervistavano uno spettatore ogni dieci per cercare di riuscire a far sì che questo campione, che non è casuale, in qualche modo permetta di estendere i risultati ottenuti a tutti gli spettatori dei concerti. Questo da un punto di vista di metodo. Ora, ok. Cominciamo dalla prima estate, se era possibile. Abbiamo già spoilerato un concetto storico. Ci arriviamo a quello. Sì. La prima estate che si presenta anche perché l'indagine è stata fatta quest'anno, quindi nel 2023. Allora, andando abbastanza veloce sul pubblico, vediamo la distinzione fra uomini e donne. Anche qui l'età media è di circa 30 anni in questi concerti. I concerti che abbiamo analizzato sono due. Uno era Giammiro Quene, quell'altro... Ok. Più donne, tra l'altro, quindi. Sì. Più donne che uomini. Dopodiché, l'età media, anche qui, era sui 25 anni. Vediamo la ripartizione. E la provenienza del pubblico è per il 60% del resto dell'Italia. L'estero, rispetto per esempio anche al Rock, rispetto al Lucas Summer Festival, è un po' più piccolo. Queste sono le regioni di provenienza. La Toscana ovviamente la fa da padrona, però vedete un po' in tutta Italia, la Lombardia, l'Emilia e il Lazio, la provenienza degli spettatori. Questi sono i concerti. Bene. E vediamo da dove vengono gli spettatori stranieri. Dagli Stati Uniti, dalla Germania, dal Regno Unito. Ovviamente percentuali diversi a seconda del concerto, a seconda dell'interesse del concerto. Questo è il titolo di studio della professione degli spettatori. Quindi è un... Gli spettatori che hanno lauree, che appunto hanno almeno la scuola superiore. E come vedete ci sono molti impiegati e studenti che hanno seguito il festival. Mi permetto di soffermarmi solo velocissimamente su qualche slide precedente che mi ha incuriosito. Il pubblico proveniente... Quella prima. Dal resto d'Italia è nettamente superiore. Direi che è il doppio rispetto a quello della Toscana. Credo che questo sia dovuto anche molto all'imprinting che si è dato a livello di festival. Nel senso che è un festival molto di respiro internazionale che cerca di abbracciare più generi anche. Certo, uniche date italiane ci dicono, giustamente. Andiamo avanti. Mi ero incuriosito perché il numero era veramente il doppio di quello del territorio. E appunto la cosa a cui siamo andati poi a stimare è l'indotto. Bene? Per quanto riguarda l'indotto vediamo il valore che è di circa 3 milioni e 8. Bene? Quindi, allora, il festival non è così grande come il rock festival. Mi sembra che in totale gli spettatori erano 32 mila quest'anno. Quindi 32 mila. Dei due concetti che abbiamo analizzato erano 17-18 mila spettatori. Quindi, questo indotto di 3 milioni e 8 è un indotto molto elevato. Che è un altro di quei dati che ci permette di rispondere appunto alla domanda del panel perché è un ritorno proprio concreto sul territorio. è una spesa media per spettatori di 170 euro. Se si considerano le spese di trasporto questa indotta addirittura arriva a 4 milioni e 2. Le spese di trasporto non siamo sicuri di considerarle perché non sappiamo bene dove ricadono. Cioè, nel senso, la persona che arriva a Pisa in aereo e poi prende un taxi ok, il taxi è un indotto che va sul territorio ma la spesa dell'aereo per esempio non rimane sul territorio. Per quanto se noi prendiamo i dati che abbiamo rilevato e cerchiamo di estenderli non solo a quei due concetti che abbiamo analizzato ma a tutti e sei concetti che ci sono stati per la prima estate allora l'indotto arriva a 6 milioni di euro. Quindi su tutti i concetti della prima estate assumendo che le persone gli spettatori di quei concetti che non abbiamo campionato abbiano le stesse caratteristiche per sesso età provenienza delle persone che abbiamo campionato allora l'indotto arriva a 6 milioni. Quindi è un indotto abbastanza elevato e vi dico già che è più del doppio rispetto all'indotto del 2022 perché noi abbiamo fatto un'indagine anche nel 2022 e nel 2022 il 2023 è raddoppiato l'indotto per tutto il lavoro che è stato fatto. Come diceva prima Enrico questo è un festival che porta anche uno sviluppo sul territorio bene quindi come diceva Enrico il 54% degli spettatori è venuto per la prima volta in Versilia quindi insomma il festival ha attirato molte persone che non erano mai state in in Versilia il motivo principale che sono venuti è senz'altro la prima estate però dopo le persone possono andare a gustare la Versilia il numero di notti il numero di notti abbiamo che circa il 40% degli spettatori prolunga per almeno due notti e il numero medio è 244 quindi due notti e mezzo gli spettatori rimangono in Versilia queste sono le tipologie di alloggio ovviamente le case in affitto i B&B sono quelli che la fanno da padrone però insomma vediamo che c'è una certa distribuzione come si diceva il festival è in crescita perché dal 2022 si passa a un 2023 dove appunto da un milione e sette si passa a 3 milioni e otto più che raddoppiato l'indotto questo va bene abbiamo chiesto agli spettatori anche se piaceva il line up l'organizzazione tutti i voti sono molto molto alti invece per quanto riguarda il Lucas Summer Festival aspettiamo un momento la metodologia utilizzata è la stessa abbiamo in questo caso rilevato i dati su 5 concerti più il sesto concerto che è stato quello di Rolling Stones che è stato 2017 dovrebbero arrivare adesso slide così affrontiamo anche questo terzo festival arriva ok eccolo ecco allora questo anche qui divisione tra maschi e femmine ci sono più femmine che maschi questo fa riferimento ai concetti del Lucas Summer Festival del 2017 bene esclude i Rolling Stones i Rolling Stones sono stati trattati a parte ok vedete anche qui l'età media è di 33 anni per gli italiani di 40 anni per gli stranieri che appunto vengono a Lucca non solo per il Lucas Summer Festival ma anche per insomma godersi la provincia qui vediamo titoli di studio e professione che è abbastanza simile un po' a quello che abbiamo visto per la prima estate qui quanto riguarda la provenienza vedete dall'estero c'è circa il 10% delle provenienze dall'Italia al 34% più dalla Toscana e da Lucca e provincia ok rispetto appunto alla prima estate anche qui l'indotto allora se si considera l'indotto su Lucca e provincia è per i 14 concetti che erano nel 2017 di 11 milioni e 2 per quanto riguarda invece la Toscana l'indotto è di quasi 17 milioni dividendo fra stranieri e italiani sulla Toscana si vede che per quanto riguarda gli stranieri è di 1.400 euro per quanto riguarda in media per gli italiani invece è più basso è più basso anche della prima estate questo possiamo vedere l'indotto distribuito per provenienza soprattutto ovviamente l'indotto maggiore per il resto d'Italia che è ottenuto dal resto d'Italia e dall'estero rispetto a coloro che risiedono in Toscana e questo più interessante è per età per età vedete ovviamente chi contribuisce di più sono le persone che hanno dai 40 anni in su ma questo ci si aspetta questo per il totale della Toscana quello di prima era per il comune la ricaduta turistica come si diceva il 29% degli intervistati è presente a Luca per la prima volta quindi una percentuale inferiore rispetto alla prima estate quindi la prima estate sembra che attiri maggiormente le persone ovviamente qui si vede che i visitatori svolgono numerose attività come visitare appunto la città le chiese i monumenti i musei quindi l'indotto non riguarda solamente la città festival ma tutto quello che si trova si è la caratteristica di esperienza che dicevamo all'inizio esatto la durata della permanenza qui è molto vicino al rock di Firenze al rock festival 2,04 la permanenza media con 3,58 per quanto riguarda gli italiani e gli stranieri queste le tipologie dell'alloggio possiamo saltare questa è per vedere la fidelizzazione vedete anche qui circa il 40% è già venuto una volta a Lucas Summer Festival quindi il 40% degli spettatori è fidelizzato e qui lo stesso voto medio possiamo compararlo tranquillamente con quello della prima estate per quanto riguarda line up e così via invece per quanto riguarda i Rolling Stones qui ci sono molti più maschi che femmine 70% l'età media è un po' più alta rispetto ovviamente ai concetti di Lucas Summer Festival titolo di studio e professione su Peugeot possono essere comparabili ma la provenienza soprattutto in questo caso sono italiani solamente il 5% sono stranieri non mi ricordo se era l'unica data che facevano in Italia sì assolutamente sì era l'unica qui l'indotto vedete è per un allora Lucas Summer Festival riguardava 14 va bene 14 serate qui abbiamo una serata sola bene fa lo stesso indotto esattamente stavo leggendo anche io sono rimasto un indotto elevatissimo circa sulla Toscana 13 milioni quindi circa 4 milioni in meno rispetto al festival quindi in Toscana fra i Rolly Stone e Lucas Summer Festival siamo arrivati quasi a 30 milioni 30 milioni di euro che se non sbaglio forse è l'indotto che fa anche il comics a Luca forse meno anche qui abbiamo la distinzione per età ovviamente anche qui le persone con più età hanno ovviamente portano più indotto più soldi e per quanto riguarda la Toscana tutto questo e questo però mi serve per non tornare indietro sì mi serve per dire cosa è che noi riusciremo cercheremo di fare nei prossimi anni ora qui ogni anno fare un'indagine è impossibile per vedere come cambia l'indotto però se a cadenza di 3-4 anni riusciamo a fare delle indagini negli anni in cui non abbiamo la possibilità di avere l'indagine possiamo attraverso metodi di machine learning metodi statistici cercare di fare inferenze cioè cercare di dire ok quest'anno l'indotto quanto sarebbe considerando i tipi di concerti i tipi di persone che vanno a quei concerti riusciremo a dire anche negli anni dove non abbiamo l'indagine che valore assume l'indotto e questo potrebbe aiutare insomma chi organizza i concerti e anche ovviamente i policy maker a prendere decisioni importanti anche sul tipo di concerto da proporre benissimo io ringrazio tantissimo i professori Salvati e Papini siamo arrivati alla fine di questo viaggio credo che sia stato molto interessante analizzare questi numeri proprio per quello che dicevamo all'inizio ovvero che i numeri restituiscono realmente poi quello che producono questi festival e ne fanno anche capire proprio la forza non solamente dal punto di vista artistico che è evidente per chi ama la musica ma anche di insomma di crescita del territorio e dell'economia soprattutto io ringrazio tantissimo ovviamente tutti gli ospiti ringrazio voi ringrazio la Milano Music Week e al prossimo appuntamento grazie dell'attenzione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti